Ci sentiamo ancora oggi esclusi e lasciati ai margini di iniziative formative, di visibilità e brandizzazione della nostra essenziale presenza di recettività della maggioranza dei territori della regione, soprattutto quelli interni. È il pensiero dell'Associazione Abruzzo B&B che torna a chiedere in particolare alla regione di essere prese in considerazione alla pare delle altre strutture recettive presenti in Abruzzo. Ma oltre a questo a suscitare nuove polemiche c'è anche l'evento organizzato dall'Art Abruzzo in programma giovedì 13 luglio. Siamo stati coinvolti, interverremo, abbiamo ricevuto le linee guida che discuteremo per regione Abruzzo, regione del benessere, in cui verranno istituiti delle certificazioni per le strutture recettive e per la ristorazione. Tra i requisiti per accedere e comunque le attività che possono accedere ci siamo accorti che mancano tutti i bed and breakfast non professionali e sono presenti solo i bed and breakfast con partita IVA. Veramente siamo allibiti di fronte a una scelta di questo genere, non capiamo perché i bed and breakfast non professionali non possono avere i requisiti di qualità e quindi riteniamo che questa esclusione sia assolutamente inaccettabile. I BNB non professionali rappresentano una realtà fortemente radicata nel territorio regionale, per questo motivo l'associazione chiede maggiori considerazioni. Siamo davvero stanchi di dover sempre ricevere dall'alto decisioni senza venire minimamente coinvolti. Ormai la categoria dei BNB è importante per l'Abruzzo, è importantissima, ci sono più di 1600 strutture, molte delle quali, la maggior parte delle quali, sono non professionali perché il BNB nasce non professionale. Mettiamocelo in testa, se la regione ha voluto in qualche maniera legiferare due anni fa dando appunto dei privilegi a chi ha la partita IVA e gli ex affittacamere farli diventare bed and breakfast con partita IVA, questo è un problema che non ci riguarda perché davvero i turisti quando arrivano in un bed and breakfast ormai non capiscono più che servizio gli si dia sul serio.